In occasione della propria festa maggiore, il gremio dei contadini ha reso omaggio ieri al patrono San Giovanni Battista. Al mattino nella chiesa di Santa Maria di Betlem, dove il sodalizio di arti e misteri ha la cappella nella quale è collocato il candeliere che sfila alla farada del 14 agosto, Don Massimiliano Salis ha presieduto la celebrazione eucaristica. I canti sono stati eseguiti dal coro di Uri. Al termine si è svolta la cerimonia dell'intrego con il passaggio della bandiera dall'obriere uscente Marco Mannoni al nuovo obriere maggiore Pierpaolo Cossu. Comunicate anche le altre cariche per il 2017-2018. L'obriere di Candeliere sarà Antonio Pinna e il nuovo obriere di cappella Matteo Zoccheddu. Ufficializzato l'ingresso del giovane gremiante Matteo Secchi. Nominato inoltre il nuovo socio onorario Pierpaolo Solciu. In serata il simulacro settecentesco raffigurante alla scena del battesimo di Gesù ad opera di San Giovanni Battista è stato accompagnato in processione dei gremi per le vie cittadine con partenza e rientro a Santa Maria e con la partecipazione del padre guardiano dei francescani conventuali Silvano Bianco.